Senti per rumore, veicolo bimondale ecologico, montazione diesel elettrica. Questa è la figuraccia della Tesla che ha spesso la mano. Ah, ce l'ha anche guarda. Pure quello suo ci vuole. All'altro rumore che si trovavamo prima era il raffreddamento in realtà, non era il motore. Io sentivo stronzio qui, pensavo fosse il motore, invece è la ventola del motore, e non della trasferizione.